Che confusione sarà perché ti amo, è l'emozione che sarà piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta, vengo poi un ventino. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, ma-cina, con il numero due capitano Davide Calabria, con il numero uno, Rubeona. con il numero 9 con il numero 10 con il numero 19 con il numero 21 con il numero 23 con il numero 28 con il numero 32 con il numero 33 con il numero 33 Grazie.